qualsiasi cosa ragazzi lasciate like al video iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa soprattutto ragazzi cliccate sulla campanella lozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri buona visione e ciao a tutti ragazzi sono sarah joden e bentrati sul mio canale da numero 5 del viaggio di alex hunter che ne dice mister dovrebbe essere pep guardiola però vabbè levati da qui prima devi guadagnar te lante è privato dobbiamo solo battere il real madrid in semifinale voglia lei galaxy o il bayern monaco in finale una passeggiata insomma se guassa o dirci qualcosa monami pare che lì creda a tutto quello che scrivono è ancora convinto che lo sbarco sulla luna sia tutta una farsa aprite gli occhi se e quando deciderò di andarmene sarete voi i primi a saperlo non c'è la che scrivetevi ragazzi mi raccomando quando succederà ok 26 luglio ragazzi la madrid manchester city prima partita diciamo ufficialissima di questa serie controlliamo hunter ragazzi e quindi ci siamo obiettivi da meno otto una pari di allenamento ok 10 volte in porta nel tour precampionato vinci il tourna precampionato ok ragazzi ci siamo lasciate like e iscrivetevi ma è il volkerante ragazzi che roba ronaldo alexander right you look it good last season kid grazie have a good match si anche a te e ci scambiamo le maglie dopo i will see what i can do gelato prima semifinale con manchester city e real madrid un antipasto coi fiocchi di quella che sarà la prossima stagione questo è un torno amichevoli di lusso come questa non c'è nemmeno da discutere pier fuori classe come questi non ci stanno a perdere nemmeno nel partitelle d'allenamento figuriamoci amichevoli di lusso come questa l'idea di estate ragazzi ottobre l'idea di estate è proprio questo stagione la pittina le palme e invece parlando l'inverno col cuore ok ecco alexander nuova divisa magenta cremisi si può dire ecco qua telecamera professionista ragazzi pala dentro che ciabattata che ciabattata di mandy mi sa ok non ha bernard bernard hunter hunter e la sblocca lui qui c'è una dub qui c'è una dub di alexander ragazzi e sono 1 a 0 ragazzi 1 a 0 primo chi non porta chiede il city si ha fatto uno fuori sia di hunter questo sette un gran gol gran due dopo 14 minuti siamo sopra hunter ancora la palla dentro per aghero hunter si fa vedere aghero aghero in avanti la palla dentro per aghero da solo e c'è il 2 a 0 per il manchester city tanto noi ci facciamo una bella da buona sotto la curva adere a madrid aghero va a festeggiare con i suoi tifosi vuoi chiamato pala invece varano gli ha fatto un assist anche abbastanza carino e quindi si riparte sul 2 a 0 per il manchester city e ci sono molti recupero approfitto per dirvi che non è che sono un altro youtuber sono sempre io però ho iniziato a registrazione di questo video 8 ottobre e adesso è gennaio perché ho lasciato in sospeso per dedicarmi ad altre cose quindi se il video andrà per intero non vi preoccupate comunque ecco qua cristiano ronaldo che è piuttosto demoralizzato da quanto appena successo che il suo real madrid sta ben perdendo 2 a 0 con il gol di alex hunter e sergio aghero sergio aghero sull'assist di varan però ma lo stacca al 45esimo siamo avanti il nostro alex hunter però sta facendo anche una buona partita e abbiamo un bel 8 con la vaka al modric dentro per tonic rose che tenta il tiro ciabattata galattica e la palla totalmente fuori dallo specchio ci hanno abbassato il voto a 7,9 speriamo di poterlo rialzare almeno a arrivare all'8 come avevamo fatto nella parte dell'allenamento nell'episodio tre modric modric qua dentro chissà ronaldo no c'è il calcio di rigore c'è il rigore per il real ragazzi c'è il rigore per il real bravissimo ottamendi complimenti battuta di mani per te ottamendi stende l'arbitro non poteva fare benze ma ed evidente vediamo qua i nostri obiettivi però siamo in linea con i nostri obiettivi come diceva qualcuno adesso parte cristiano ronaldo e la palla è fuori attenzione cristiano ronaldo cristiano ronaldo tira fuori il calcio di rigore tenta un pallonetto piuttosto azzardato mi ricorda un certo Graziano Pellè anche se non se la tira quanto Graziano Pellè per fortuna e niente e si riparte la situazione di 2-0 sempre per noi a minuto 60 dentro De Bruyne e Aguero per Hunter 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 potrebbe tentare il tiro Hunter troppo generoso e la palla fuori però c'è calcio d'angolo qua troppo generoso stato Hunter la palla dentro tenta il corpo di testa addirittura in 2 e palla che torna a noi Hunter fuori aria potrebbe tentare il tiro ma vede Mendy chiama il filtrante Hunter non può sbagliare Hunter e Keylor Navas Keylor Navas ragazzi cosa ha preso ha chiuso la porta in faccia d'Alex Hunter ha buttato via la chiave e riparte la Madrid con Carvacal per Bale ancora Sergio Ramos la palla dentro per Carvacal Carvacal dentro Benzema Benzema e qua Ederson se è lui ha fatto una grandissima parata entra De Tomas per Karim Benzema mi ha fatto anche un cambio a noi che non ho avuto modo di capire chi fosse tanto qua riprendiamo anche palla in difesa e Bonita e Laghera la palla dentro e c'è il fuori ancora di Cristiano Ronaldo sfortunatissimo oggi ragazzi Cristiano Ronaldo e si riparte da dietro con Nota Mendy Hunter dentro ragazzi ancora dentro Boni Hunter chiama la palla dentro ce l'ha Keylor Navas la prende tranquillamente tra le braccia senza farsi ipnotizzare Silva De Bruyne la chiama dentro Alex Hunter qua fa la finta il sinistro ciabattata proprio complimento la parola ciabattata e si riparte dietro da Varanna Marcello De Tomas attenzione spaglia questa palla qui e Hunter potrebbe lanciare Mendy e lo lancia male anche perché era fuori gioco quindi ha fatto bene a disinteressarsi della palla ci sono tre minuti di recupero che tanto andranno via come il vento al massimo si pende il 2 a 1 e a Palenzo per De Tomas il nuovo entrato e fa muro la difesa del City e la partita ragazzi finisce qui abbiamo sconfitto 2 a 0 il Real Madrid nel torneo estivo vabbè il calcio d'estate non conta niente come tutti dicono come in effetti è però abbiamo messo insomma un altro tassello per questo viaggio ragazzi ecco qua Ronaldo che va a stringere a mano il nostro Alex Hunter adesso vediamo cosa hanno da dirsi negli spogliatoi ecco qua Hunter che le propone di scambiarsi la maglia e Cristiano Ronaldo accetta di scambiarsi la maglia con il nostro Alex Hunter e vediamo ragazzi cosa andrà a succedere perché merendo gli spogliatoi caricasse questa roba qui ecco qua ragazzi ben fatto Alex Hunter che non ci crede dovresti venire a giocare nel real ragazzi qua non ci crede Alex Hunter quindi qua ci siamo sempre di essere sempre pacati bilanciati né troppo di qui né troppo di là ecco qua con tutti questi flash ragazzi terminiamo qui l'episodio Alex Hunter 23 minuti giocati 7,7 la lotazione è tornato 2000 sterline in più da poter spendere tranquillamente ragazzi qualsiasi non so cosa 9 milioni nel nostro valore di mercato insomma abbiamo aumentato anche i nostri followers e andiamo avanti che nel prossimo episodio ragazzi giocheremo contro il Bayer Monaco se non vale errato mi sembra però comunque ragazzi lasciate like iscrivetevi e alla prossima vedremo ciao